Benvenuti dalla redazione di Volonvrite ad una nuova intervista della Salute in Comune 2013. Ho il piacere di avere accanto a me Mauro Daveni, il responsabile del servizio Qualità e Sicurezza Alimentare dell'Associazione Coldiretti. Buonasera a tutti, o buongiorno. Le chiedo subito, insomma, un marchio famoso, rinfreschiamola a memoria a chi magari non lo sa, che cos'è l'Associazione Coldiretti? Ma allora Coldiretti intanto non è un marchio perché non vorrei che la confondessero con la Coca-Cola. In realtà Coldiretti è un'associazione di produttori agricoli, fatta da imprenditori agricoli, è la principale associazione di categoria agricola d'Italia e è una delle più consistenti d'Europa. Quindi nei fatti si occupa di tutto ciò che è agricoltura e oggi è molto più conosciuta di un tempo perché ha associato alla semplice tutela dell'agricoltura anche un concetto più ampio di agricoltura, come agricoltura multifunzionale, agricoltura capace di dare dei servizi, agricoltura capace di produrre il cibo che serve per la salute degli italiani. E infatti gli italiani hanno imparato a conoscerla anche per un sacco di altre cose, oltre che per quella agricola. Ecco, si parla di salute, non si può non parlare appunto di cibo, ciò che ci finisce in tavola comunque tutti i giorni. Nel tempo si può dire che c'è stato un evolversi del rapporto tra noi, tra i cittadini e il cibo. Lei durante il suo intervento sottolineava dei punti di rottura chiave di questo rapporto, di questo legame. Sì, diciamo, negli ultimi vent'anni, con un'accelerata, diciamo negli ultimi dieci, si sono rotti almeno quattro dei legami fondamentali e tradizionali che noi riconoscevamo nel cibo. Il primo essere rotto in ordine cronologico è stato il legame, diciamo, col tempo. Fino a una decina d'anni fa a Torino si trovavano dei negozi con su scritto Primizia, perché effettivamente si riconosceva il fatto che in certi periodi dell'anno c'erano certi prodotti. Se li volevi in periodi diversi andavi in quel negozio che era specializzato, te li faceva pagare quel che era giusto e finiva tutto lì. Oggi in realtà con, come dire, l'incrementarsi parossistico, direi io, della globalizzazione, ormai si può avere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Questa è la prima rottura col tempo. La seconda rottura è stata con il produttore, per esempio, cioè è con l'origine del prodotto. Quindi oggi non solo l'origine del prodotto è diventata una cosa, come dire, facoltativa, per cui col fatto che ormai ci arriva qualsiasi cosa, poi da dove ci arriva non è più così importante, ma anche chi l'ha prodotto. Non è un caso che oggi il 40% di quello che si vende nei supermercati è a marchio della grande distribuzione, dove lì in realtà il produttore figura con un indirizzo o un numero sanitario. L'altra rottura che si è rotta, che è una rottura molto importante, è nella natura stessa del cibo. Noi ci siamo dimenticati che il cibo è vivo. Ormai tutta la legislazione anche, quella igienico-sanitaria, quella commerciale, quella mercantile, tende a privilegiare un concetto di cibo sterile, di cibo che deve sopportare tutta la movimentazione che serve per renderlo globale. E quindi questo in qualche modo ci ha fatto dimenticare che il cibo, perché ci faccia bene, deve essere vivo. Cioè deve avere una sua intrinseca carica batterica, deve avere dei fermenti suoi naturali. E questo, come dire, è la terza rottura. La quarta rottura, il legame, l'ultimo direi che è stato rotto, è proprio il legame tra il cibo e il suo valore. Valore inteso come valore intrinseco, cioè valore nutritivo e valore anche economico, cioè quanto mi costa produrre quel cibo. Fino a qualche anno fa era chiaro a tutti che una patata doveva per forza costare di meno di una bistecca o di un pezzo di formaggio. Oggi noi arriviamo al paradosso che senza curarcene noi compriamo, che ne so, una busta di patate tagliate e sbucciate, che per il semplice fatto che sono tagliate e sbucciate magari mi costano 5, 6, 7 euro al chilo e magari l'insalata a 12, 13, 15 euro al chilo se è in busta, lavata, tagliata, pronta all'uso e magari la bistecca la troviamo in offerta a 8 euro, il parmigiano reggiano a 7, 9, il latte a 80 centesimi. Cioè ormai si è rotto completamente la consapevolezza nostra di come si fa il cibo, di quanto costa fare quel cibo e quindi del valore che deve essere connesso a quel cibo. E questo è una rottura gravissima. Ecco, ci siamo dimenticati che il cibo è vivo e abbiamo anche sviluppato una cultura di demonizzazione del batterio. Cosa vuol dire questo e come incide sulla nostra cultura alimentare e anche sulla produzione di cibo? In realtà l'abbiamo sviluppata perché ce l'hanno indotta. Cioè, voglio dire, basta guardare la pubblicità, qualsiasi pubblicità, voglio dire, fa vedere delle case in cui, come dire, il WC tu ci puoi mangiare dentro perché è sterilizzato, perché c'è un uso di sterilizzanti, c'è una batteriofobia incredibile. Perché ci si dimentica sostanzialmente che il nostro pre-antenato non è tanto lo scimpanzee quanto il batterio. Noi tutti, il mondo è stato colonizzato all'inizio dai batteri. Noi stessi siamo e viviamo e siamo quello che sono, siamo e stiamo in salute perché abbiamo qualche miliardo di batteri che colonizza i nostri organi interni, l'intestino in particolare, ma anche lo stomaco che consente la digestione e l'assimilazione dei cibi. Abbiamo un miliardo di batteri sulla pelle che ci consentono di tenerla, per esempio, pulita è attiva, è traspirante e questo lo dimentichiamo assolutamente. E lo dimentichiamo perché strumentalmente ha fatto comodo in una logica di cibo globalizzato e senza volto, senza origine, senza volto produttivo. Un cibo indistinto ha fatto gioco, come dire, pensare che era meglio sterilizzare tutto poi semmai ridarci sotto forma, che ne so, di bifidus anziché di integratori, anziché tutto quello che si è perso con l'aver ammazzato il cibo. Perché tra l'altro i trattamenti di sterilizzazione o comunque i trattamenti termici non solo ammazzano le cariche batteriche, ma influiscono sul contenuto di vitamine, quelle termolabili spariscono, denaturano delle proteine, rendono i cibi meno digeribili proprio perché in qualche modo iniziano delle trasformazioni collegate col calore e via discorrendo. Ora, se ci fosse un medico, io non sono un medico, insomma, vi direbbe anche che probabilmente questa demonizzazione del batterio è anche una delle cause che sta facendo aumentare dei fenomeni di intolleranza, di allergie. E poi è evidente che questa cosa dal punto di vista produttivo, e chiudo con la domanda, ha inciso nel senso che il cibo vivo è il cibo locale, il cibo più fresco, il cibo che più direttamente arriva dal momento di produzione al momento di consumo. Sia essa la produzione agricola, sia agroindustriale, perché i discorsi che facciamo valgono per gli agricoltori come per le industrie alimentari che in qualche modo in Italia hanno sempre costituito un'eccellenza. Ecco, si è parlato anche di una mancanza di consapevolezza nel riconoscere il reale valore anche economico del cibo che si va a comprare. Sono cambiati, è cambiato anche l'ordine però dei fattori che incidono nella stima di questo prezzo, del prezzo finale, con anche l'ingresso delle multinazionali a fare un po' da padroni in queste decisioni. Sì, beh, diciamo, allora, è chiaramente cambiato l'ordine dei fattori, cioè mentre prima, penso a chiunque abbia studiato economia, anche non a livello universitario, ma semplicemente in qualche liceo o in qualche scuola superiore, in cui ci si insegnava che il prezzo al dettaglio era la sommatoria del prezzo alla produzione, quindi del costo alla produzione, più i vari costi di trasporto, intermediazione e quant'altro, fino alla percentuale che rimaneva al negoziante e poi lì arrivava il prezzo finale. Oggi in realtà il prezzo finale viene fatto a valle, non più a monte, viene fatto da chi oggi controlla la produzione e la distribuzione soprattutto. Quindi i grandi gruppi che in qualche modo influenzano, non solo controllano, ma influenzano anche sia gli stili di consumo e sia soprattutto la parte economica. Il fatto che ci sia legalmente possibile utilizzare degli strumenti come la promozione e come il sottocosto soprattutto per promuovere dei prodotti sostanzialmente tutto l'anno, sempre, e quasi sempre sono dei panieri di prodotti che attirano, quindi spesso e volentieri dentro quei panieri ci sono dei prodotti ad alto valore biologico. Parlavo prima del latte fresco, parlavo del parmigiano reggiano, ma anche le mele, le patate, cioè voglio dire quello che è una sorta di paniere che serve sostanzialmente per attirare il cliente. Ma perché questi signori possono permettersi di fare il sottocosto? Perché in realtà non lo pagano loro quel sottocosto, uno, due, perché in realtà loro hanno il margine finanziario, loro i soldi li beccano subito, perché chiunque di noi vada a comprare in qualsiasi parte di, da qualsiasi parte, esce solo se ha pagato. però poi i fornitori sono pagati con dei tempi che, insomma, in qualche modo adesso con un decreto di un annetto fa si è cercato di correggere, un pochino, ma comunque, voglio dire, questi signori possono incidere sul prezzo finale, perché possono anche permettersi di perdere, di rinunciare al loro margine commerciale, perché hanno quello finanziario, e perché sanno che uno dei problemi che abbiamo noi, proprio per la rottura che dicevamo prima, è il fatto che noi quando entriamo in un supermercato non ci limitiamo a prendere quei due o tre prodotti, ci riempiamo il carrello e quindi loro sanno perfettamente che questo serve a far comunque entrare la gente e sul numero di gente comprerà anche altre cose, quindi è chiaro che questo ha inciso molto. Ecco, quali sono magari i consigli da dare a un cittadino come può un cittadino nel suo piccolo recuperare queste rotture e far fronte a un sistema problematico che abbiamo descritto? Ma allora, intanto il cittadino qualche scelta la può fare e la può fare anche come dire senza gravi incombenze economiche, cioè senza spendere di più sostanzialmente. Intanto è ovvio che se segue un pochino la stagionalità, poi il problema vero che in realtà fa comodo a tutti e fa gola a tutti insomma mangiarsi le fragole magari due mesi prima di quello che sarebbe lecito, però perlomeno cerchiamo di privilegiare tutti quei prodotti che sono identificabili e tracciati dall'inizio alla fine anche nelle materie prime, quindi la pasta prodotta con grano 100% italiano e ce n'è già in giro, Coldiretti ha fatto un paio di filiere per esempio una con la Cop e un'altra con altri settori per la pasta lo stesso succede che ne so per il passato di pomodoro o per altri prodotti quindi privilegiare quei prodotti in cui si capisce ancora chi li ha fatti c'è il nome di chi li ha fatti e ovviamente questo nome dovrebbe essere italiano privilegiare quei prodotti che hanno anche le materie prime italiane e le dichiarano privilegiare le linee più corte quindi le linee del fresco questa sera abbiamo anche come dire tessuto le Lodi di Torino come città che probabilmente la migliore d'Europa come rapporto tra numero di mercati cittadini e abitanti perché nei mercati si capisce ancora chi vende c'è ancora il prodotto lo vedo lo tocco lo valuto lo faccio poi mi piglio anche le fregature però intanto come dire e intanto mi guardo in faccia intanto cerco di capire intanto faccio delle domande su quel prodotto e cerco di capire da dove arriva e cerco come dire di approcciarmi in quel modo lì altra cosa più fondamentale ancora bisogna che gli italiani imparino a pianificarsi la spesa perché questo concetto è fondamentale perché solo se io sono consapevole di quello che devo comprare perché sono consapevole di quello che consumo riesco a pianificarmi cosa mi serve nella settimana e allora posso tranquillamente andare mirato a comprare quello che mi serve e magari dove decido che mi serve e alla fine della settimana avrò ottenuto almeno tre benefici uno che mi accorgo che ho speso poi alla fine di meno perché non ho riempito il carrello di cose inutili due che magari ho mangiato anche un po' più sano perché mi sono come dire non mi sono lasciato a tirare da cose un po' particolari sfiziose strane e quant'altro tre ho sicuramente scartato molto meno con un beneficio per me e per la collettività semplici cose che comunque vengono anche incontro come dire al fatto che oggi siamo in un momento economico particolare e quindi tutti insieme dobbiamo contribuire si contribuisce anche facendo sì di lasciare i soldi in loco perché il fatto semplicissimo di far la spesa da uno che so chi è che non è detto che sia un agricoltore può anche essere il commerciante del negozio lì sotto oppure la famiglia che gestisce il supermercatino non ha importanza ma so che gli ho dato i soldi a lui e che lui vive qui e che quei soldi probabilmente li spenderà qui e quindi qui si innesta anche un circuito virtuoso ecco poi in un momento di crisi insomma valorizzarsi l'uno con l'altro non può che far del bene è solidaristico esattamente e fa bene a tutti e anche alle tasche di tutti oltre che alla salute di tutti ecco per concludere mi viene da chiedere quali sono e anche quali saranno le battaglie principali di Coldiretti ma allora la battaglia principale di Coldiretti che devo dire in questo ultimo decennio ne abbiamo vinte una serie intanto siamo riusciti in quest'ultimo decennio a far parlare di nuovo di agricoltura e a farne parlare in modo un po' diverso dal solito l'agricoltura ha smesso di essere quel settore in cui non voleva più starci nessuno perché era il settore dei reietti di quelli che non ce l'avevano fatta a far fortuna da un'altra parte allora erano rimasti in agricoltura adesso non è più così anzi gli indicatori ci dicono che è uno dei pochissimi settori in crescita una micro crescita attenzione insomma un 3-4% in più di impiegati in agricoltura però insomma è comunque una micro crescita le battaglie che fa Coldiretti quindi sono quelle di dare il riconoscimento al ruolo che l'agricoltura merita e che merita intanto come produttrice di cibo e di cibo per tutti attenzione perché una delle tendenze che oggi c'è è il fatto che ma no l'agricoltura italiana deve solo più produrre le eccellenze tanto qualcuno che le paga in giro per il mondo c'è peccato che dietro questo ragionamento ci sia il sottendendimento che può mangiare bene e sano solo chi può permetterselo tutti gli altri chi se ne frega non si mangiano prima considerazione seconda considerazione in realtà si sta mettendo a repentaglio come dire la sovranità alimentare del paese perché nel momento in cui non riusciamo più a soddisfare neanche minimalmente dei nostri fabbisogni interni forse diventiamo ancora più dipendenti di quanto siamo anche in campo alimentare terzo il fatto che io non ha più senso che semino il grano perché tanto mi arriva oppure che allevi vacche da latte perché tanto il latte mi arriva in cisterna da paesi in cui lo producono a metà di quello che costa a me fa sì che noi distruggiamo il nostro paesaggio e peccato che il nostro paesaggio è in realtà la nostra ricchezza perché è quella che alimenta l'idea del made in Italy e dell'Italia che c'è in giro è quella che alimenta il turismo è quella che fa sì che la gente viene in Italia perché in Italia si vive bene si mangia bene si vede bei paesaggi e quindi anche lì è l'altra battaglia l'altra battaglia è un'agricoltura multifunzionale che è capace di dare dei servizi che nelle aree rurali è capace anche di intervenire a supporto dello Stato che non ce la fa più e allora abbiamo delle aziende agricole che aprono le fattorie sociali che aprono gli agriasilo che fanno manutenzione del territorio che tolgono la neve che ripristinano le strade che puliscono i fossi che puliscono i boschi cioè voglio dire che quindi presidiano il territorio il caso delle cinque terre è eclatante evidente se non ci fossero gli agricoltori che lì ancora si sono specializzati anche nei muretti a secco perché è quello che tiene su il territorio e lì si ostinano a coltivare quella vite o quegli ortaggi o quelle piante da frutto che lì ancora vengono sprofonderebbe tutto più di quanto già non sta sprofondando altra cosa a Coldiretti interessa appunto che aumenti la cultura del cibo ma rispetto alle cose che abbiamo detto adesso rispetto al fatto che il cibo diventa e deve diventare una risorsa e perché diventa una risorsa per il territorio bisogna che le materie prime che lo compongono siano italiane ecco la battaglia anche legislativa persa per ben due volte perché la comunità europea ci ha dato torto perché questo come dire è un po' contro questi principi di questo strano libero mercato cioè l'etichettatura obbligatoria dell'origine delle materie prima prevalente cioè il fatto di dire poi se lo dici in modo trasparente sarà il consumatore a decidere tu devi dire quella pasta se l'hai fatta con grano italiano se l'hai fatta con una miscela di grani o se l'hai fatta con grano totalmente estero se l'hai fatta con pomodoro cinese o con pomodoro del Salento devi dirlo semplicemente ecco io la ringrazio prima dei saluti le chiedo se vuoi lasciare qualche contatto e dove si trova anche dove si trovano le sedi della Coldiretti allora beh per chi ha internet Coldiretti ha un paio di siti uno si chiama coldiretti.it quindi www.coldiretti.it l'altro è www.campagnamica.it campagnamica è il contenitore diciamo che ha creato Coldiretti per mettere in rete tutte le aziende aderenti a Coldiretti che fanno vendita diretta agriturismi fattorie sociali fattorie didattiche e quant'altro le nostre sedi sono due abbiamo una sede di rappresentanza regionale in piazza San Carlo 197 e una sede provinciale e io vi inviterai a rivolgervi a questa perché è quella più operativa che è in via Pio 797 se volete scrivere una mail alla Coldiretti provinciale è torino chiocciola coldiretti.it molto semplice bene io ringrazio e saluto Mauro Daveni grazie a voi e alla prossima grazie a voi